La storia insegna che quando i popoli barattano la propria libertà in cambio di promesse di ordine e di tutela, gli avvenimenti prendono sempre una piega tragica e distruttiva. Le parole che avete appena sentito sono naturalmente del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sono state pronunziate il 25 aprile 2019. Mattarella stava ovviamente celebrando la festa del 25 aprile e lo faceva mettendoci in guardia rispetto ai pericoli del potere, il richiamo ovviamente era al fascismo, e diceva una cosa giusta e sacrosanta, dirò di più, guai a barattare le libertà con promesse di sicurezza e di protezione, perché gli esiti, parola di Mattarella, sarebbero nefasti come già altra volta nefasti sono stati. Parole perfettamente condivisibili che sottoscriviamo in pieno e che tuttavia appaiono essere contraddette dal modus operandi che il governo italiano avrebbe assunto di lì a pochi mesi. Ricordo le parole di Mattarella sono del 25 aprile del 2019 e già nel marzo del 2020 il governo italiano di conserva con altri governi, con larga parte dei governi europei, proponeva appunto limitazioni di libertà in cambio di promesse di ordine e di sicurezza. Ricorderete bene i confinamenti domiciliari coatti e i divieti di assemblea fino ad arrivare all'infame tessera verde con la quale si barattavano appunto diritti e libertà per avere in cambio la promessa di sicurezza, in quel caso rispetto al contagio. Insomma, le parole di Mattarella sono sacrosante, peccato che il governo italiano le abbia ampiamente contraddette, a mio giudizio, proprio a partire dal 2020, quando giusto appunto ci è stato chiesto di barattare libertà e diritti per promesse di sicurezza e di protezione, con esiti che, per dirla ancora con le parole del rispettato presidente Mattarella, sono stati nefasti e ora possiamo dirlo con la massima certezza. Insomma, possiamo ben dire con Antonio Gramsci che la storia insegna ma non ha scolari e proprio per questo siamo condannati a ripeterla molto spesso con tutte le sue tragedie e i suoi supplizi.